Obiettivo internazionalizzazione. 16 imprese abruzzesi del food e 10 della moda avranno l'opportunità di presentare i loro prodotti in tre eventi organizzati a Dubai. È l'effetto a lunga gittata del progetto partito un anno fa circa, nato dalla collaborazione tra Regione Abruzzo Sviluppo e Camera di Commercio Chieti Pescara. In occasione dell'Expo di Dubai venne inaugurato uno sportello dedicato alle imprese intenzionate ad esportare negli Emirati. I primi risultati già ci sono, sembra che stiano riscuotendo grande successo l'olio extravergine di oliva e il vino senza alcol. Abbiamo fatto un ottimo lavoro tra le Camere di Commercio abruzzesi, Abruzzo Sviluppo e Regione Abruzzo e da questa partnership, fino adesso abbiamo avuto già un ottimo risultato a Dubai. Abbiamo aperto uno sportello a disposizione delle imprese che hanno voglia di investire e di entrare in quei mercati, anche perché è un momento, potrebbe essere un momento estremamente favorevole, anche perché a seguito di questa guerra Russia-Ucraina molti scambi commerciali nel mondo vengono modificati. Di conseguenza è un momento difficile, ma anche di occasione. Le prossime missioni danno il senso del valore di quell'accordo, perché noi all'inizio di febbraio abbiamo siglato un protocollo di intesa con la Camera di Commercio italiana Dubai, che dava la possibilità alle imprese abruzzesi di avere un anno di consulenza gratuita per chi ovviamente voleva entrare ai mercati emeratini. E oggi, a distanza di qualche mese, quell'accordo vi spiega i primi effetti, perché saranno 26 le imprese che partecipano a tre missioni differenti. Quali sono i settori di intervento? Il settore del food, in prevalenza, olio e poi c'è anche un'impresa che produce vino senza alcol, quindi in qualche modo in linea con quei mercati. E poi c'è la seconda missione del 28-29 novembre, molto interessante, perché saranno 10 le imprese della moda, tutte che producono con marchi propri. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a molte imprese che hanno rinunciato ai propri marchi per produrre in conto terzi. Queste 10 imprese vogliono ribadire il valore del proprio marchio. In quell'area geografica si concentra molto del business e del lusso. Peraltro molti russi risiedono a Dubai e oggi ovviamente c'è una richiesta altissima del Made in Italy. E torno a dire il fatto che 10 imprese abruzzesi, soprattutto del settore pellettiero terramano, vogliono confrontarsi con quel mercato, secondo me è un segnale anche importante che si dà alla stessa regione e al sistema economico. Cioè le imprese vogliono competere e chiedono alle istituzioni gli strumenti per farlo. Su cosa si punta? Il prodotto principale è l'olio, che avrà una specificità all'interno della catena di distribuzione Choitgram, che è una delle catene più importanti di Dubai, nelle quali dal 3 al 12 dicembre ci saranno in 7 punti vendita i più importanti marchi abruzzesi.